Screening di massa a Montebello di Bertona, sindaco Gianfranco Magrini, è praticamente riservato alla popolazione scolastica dopo un caso di positività all'interno del plesso delle scuole, però poi è steso anche a tutta la comunità che sta anche reagendo in maniera positiva in tanti, già dalla prima mattinata a sottoporsi a questo test. I risultati sono veramente soddisfacenti. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto un positivo all'interno della scuola e abbiamo deciso di fare uno screening soprattutto per i ragazzi e il personale della scuola per far rientrare lunedì tutti i ragazzi a scuola nella massima tranquillità e sicurezza. Però la soddisfazione è che da questa mattina, siccome abbiamo aperto alle 9, ma dalle 8 e mezza già c'era gente che aspettava qui davanti. Vuol dire che la gente è diventata veramente sensibile e coscienziosa che la tutela non è mai troppo. Per il sindaco, rispetto alla prima fase dell'ondata, quella dell'anno scorso, dove ci furono 10 positivi a Montebello di Bertona, finì anche in zona rossa, questa volta la situazione è molto migliorata, un solo positivo, però continuate a tenere la situazione sotto controllo? Assolutamente sì. Positivi sono stati 4-5 dalla seconda ondata, diciamo, però scaglionati uno alla volta, appena guariva uno purtroppo diventava positivo, tutti asintomatici. Approfitto per ringraziare i cittadini, il personale della vigilanza e tutti quanti, perché la tensione è stata sempre alta, non abbiamo mai abbassato la guardia e questo anche con tanta fortuna ci ha fatto ottenere questi ottimi risultati. Ecco, sindaco, dovete fare anche però, così conti con il maltempo, domani è prevista la nevicata qui a Montebello, ricordiamo che siamo a due passi dalla montagna, ecco, dovesse arrivare la neve, si continueranno i tamponi o saranno rinviati. Però l'obiettivo del Comune è riaprire la scuola lunedì. L'obiettivo è quello di riaprire la scuola lunedì. Noi cercheremo, abbiamo divulgato la notizia, di concentrare ad oggi per i ragazzi e il personale scolastico, ad oggi questi tamponi. Speriamo che domattina il tempo sia clemente, ci dia la possibilità di finire nei tempi stabiliti e poter fare i tamponi a tutti i personali, soprattutto della scuola. Ma la scuola lunedì sicuramente riaprirà.